Ecco, oltre ai cimele che ci sono nella sezione, non può mancare, questo non è un oggetto, è un segno. Il segno di Cristo, Salvatore, che ci tutela e ci preserva da ogni male. E il Signore sia con voi. Il benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il benedico voi. E poi saliamo su. Mia moglie e mia figlia sono venuti e ci tenevo soprattutto per mia figlia partecipasse e iniziasse a conoscere la storia del suo bisnonno. Un grande onore come rappresentante della famiglia. Porterò a mio padre, ai miei zii, che sono i figli, il calore e l'attenzione che ancora viene riservata alla figura del maggiore e di mio nonno. Apre una nuova pagina di storia per Alcamo, nei valori dell'arma e nei valori di tutte le istituzioni. Abbiamo ricordato De Carolis caduto alle forze ardiatine. Un ponte tra la storia passata e la storia che stiamo scrivendo. Ed è la libertà nella democrazia. Se tu hai dovete tagliare, forza. Ringrazio l'arma, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il suo presidente Stefano Cruciata per avere portato ad Alcamo questa grandissima opportunità. Abbiamo innanzitutto una tradizione di collaborazione molto importante con l'arma che è molto presente sul territorio, apportando anche degli ottimi risultati. Voglio un saluto cordiale a nome del generale di corpo d'armata Libero Losaldo, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e di tutti gli associati. Un sentito ringraziamento a tutti i presenti. Un motivo in più anche di fare le cose è di venire a visitare ad Alcamo. Tra i tanti musei che abbiamo si arricchisce oggi di una cultura in più. Molto particolare perché non tutte le città possono vantare questa grande opportunità per cui vale molto la pena venirlo a vedere. Peraltro in un'area della città, quella del centro storico, in prossimità alla quale poi si trovano tantissime emergenze culturali, proprio a due passi, ma tantissimi altri musei che sono tutti veramente raggiungibili a piedi. Quindi l'invito appunto è venire a vedere il nostro sistema, la nostra cittadina e questo museo che si aggiunge oggi.